Sonia Lorenzini pare non abbia preso affatto bene l'eliminazione dalla casa del GFVIP, specie perché pare che la colpa sia delle Rosmello Le fan di Diane e Rosalinda, infatti, sembrerebbero essere state le principali artefici della sua uscita dalla casa In molte, infatti, hanno visto Sonia come la causa principale della fine dell'amicizia tra le loro beniamine Per tale ragione, avrebbero fatto di tutto per decretare la sua uscita quanto prima Ebbene, l'extronista di Uomini e Donne ha deciso di vendicarsi in un modo davvero crudele Il gesto delle Rosmello.In queste ore, Sonia Lorenzini ha sbottato contro le Rosmello accusandole di essere state le principali artefici della sua uscita dal GFVIP L'ingresso della ragazza, infatti, ha decretato un repentino allontanamento di Diane da Rosalinda Lamello, infatti, ha detto di essersi trovata molto bene con l'extronista, sta di fatto che ha deciso di interrompere bruscamente il forte legame che si era venuto a creare con la Cannavo Questo non deve essere andato molto a genio alle fan delle due ragazze.Per tale motivo, non appena ne hanno avuto la possibilità, le follower hanno provveduto subito a fare fuori la nuova arrivata In effetti, è da quando è cominciato il reality show che sono state notate delle incongruenze sul televoto a causa delle fan delle due Si è parlato anche di voti falsati provenienti dall'estero, e che quindi non sarebbero dovuti essere conteggiati La vendetta di Sonia Lorenzini.Ad ogni modo, dopo la diffusione di queste indiscrezioni, Sonia Lorenzini ha deciso di vendicarsi contro le Rosvello La ragazza ha registrato delle Instagram stories in cui ha detto che la notte del 27 dicembre lei era in casa e potrebbe aver visto delle cose che sono accadute tra la Mello e la Cannavo Per giorni si è parlato di quanto possa essere accaduto in tale occasione in quanto pare che tra le due sia scattato qualche momento di passione Ebbene, la Lorenzini ha detto che, malgrado abbia assistito a queste scene, non rivelerà mai niente per vendicarsi delle Rosvello Questa sembra essere la vendetta perfetta per Sonia per farla pagare alle persone che hanno decretato la sua eliminazione dalla casa del GFV Come la prenderanno le destinatarie di questa velenosa ripicca? Sicuramente non bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.